Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Settimana scorsa avevamo pubblicato un video riguardo l'importante modello REDE. Infatti i pensionati italiani hanno ricevuto una lettera da parte dell'IMS che conteneva un sollecito per la presentazione del modello di dichiarazione reddituale riferito all'anno 2019. Ebbene da pochi giorni è scaduto il termine ultimo per poterlo presentare. Vediamo tutte le conseguenze a riguardo in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Partiamo ricordando che il modello REDE è la dichiarazione dei redditi che devono presentare i titolari di prestazioni erogate dall'IMS per comunicare altre fonti reddituali non conosciute dall'IMS stessa. Tra queste rientrano la pensione all'estero o la proprietà di un immobile sempre all'estero. La lettera inviata da IMS riportava la data di scadenza riferita alla presentazione della dichiarazione ovvero al 28 febbraio 2022. Successivamente a tale data si rischia seriamente di perdere le pensioni. Trattandosi di un obbligo chi non presenta tale modello incorre in sanzioni o in una sospensione addirittura della prestazione previdenziale. Il pensionato che ha dimenticato quindi di inviare il modello REDE entro il 28 febbraio scorso avrà 60 giorni di tempo per inviare la dichiarazione. Allo scadere di quest'altra scadenza il pensionato perderà la pensione e l'IMS procederà al recupero di quanto versato. Dunque chi non l'avesse presentato ad oggi ha poco meno di 60 giorni per poterlo presentare. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente di iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.